L'Atalanta batte in trasferto all'Udinese per 3 a 1 e complice una serie di risultati positivi sugli altri campi, raggiunge il settimo posto e quindi torna in lizza per un posto in Europa League. Allora cerchiamo di fare una considerazione generale della partita e poi due o tre appunti su alcuni aspetti. La considerazione generale della partita è che sicuramente oggi non è stata una partita particolarmente bella, l'Atalanta che gioca bene, che fa innamorare con il suo gioco non è questa, però è altrettanto vero che la classifica, soprattutto la Serie A, la si vince o quantomeno la si scala sia con il buon gioco ma soprattutto con il cinismo e onestamente io quando vedo certe partite finire 3 a 1 senza aver entusiasmato ma non avendo mai rischiato molto, avendo tenuto il pallino del gioco, francamente sono contento. Sono contento perché ipotizzare un campionato in cui una squadra corre a mille tutte le ore, tutti i giorni è francamente impossibile. Ci vogliono dei momenti in cui si sta un po' più coperti, in cui c'è meno fantasia, magari si sta tirando un po' fiato, però poi se i risultati arrivano sono quasi una doppia vittoria perché consumi meno e ottieni poi un risultato molto più grande. In economia diremmo massimizzare il risultato minimizzando gli sforzi. Andando poi a fare una serie di considerazioni sui giocatori le farò molto casuali perché non c'è un nesso però penso che ci siano alcuni elementi da dire. Partirò dalle note positive, la nota positiva oggi ovviamente è Zapata che è un giocatore importantissimo per questa squadra soprattutto adesso che sta imparando i meccanismi. Io lo dico sempre, non sarà una grande massima del calcio, però se tu arrivi in area con un pallone dignitoso e in mezzo ad un giocatore che vede la porta, il risultato è facile che lo porti a casa. Oggi è stato l'esempio. Noi siamo arrivati in area di rigore, tre volte di fila, in tre modi diversi, comunque con palle sempre giocabili e Zapata poi ha fatto il resto. Poco importa se magari un gol è un po' un rimpallo, un gol viene da un liscio, bisogna saper cogliere anche le occasioni che capitano dagli errori o dal circolare imprevedibile del pallone. Questo qua è il calcio, d'altronde noi a Bergamo abbiamo avuto Inzaghi che era il principe del basta che mi arrivi una palla e poi in qualche modo la butto dentro, quindi tanto di cappello a Zapata e speriamo che sia una serie lunghissima di gol. Sempre sul reparto offensivo, molto bene Papu Gomez che, ripeto, l'abbiamo spostato, io all'inizio non capivo dove era finito, adesso complice anche, devo dire, alcune dichiarazioni di Gasperini che mi hanno un po' chiarito le cose, devo dire che il suo lavoro lo fa. Abbiamo perso il Papu Gomez determinante, incisivo che aggredisce gli ultimi metri, ma abbiamo guadagnato un playmaker che, insomma, io lo dicevo spesso nei miei video, uno che prendesse la palla e mezzo e sapesse a chi darla, sapesse un po' impostare un'azione che ci voleva e devo dire che il Papu Gomez lo fa molto bene. Oggi non aveva il suo partner di riferimento, Ilicic, quindi secondo me ha avuto un po' di difficoltà a scaricare il suo Rigoni che non è ancora entrato nei meccanismi, però devo dire che tutto sommato la prestazione mi è piaciuta. Sulla coppia Rigoni e Barro ho ancora qualche perplessità, ripeto, io stimo entrambi i giocatori e credo tantissimo in loro. Rigoni secondo me deve ancora capire i meccanismi di questa squadra perché si vedono i numeri, si vedono i giochini, però non lavora ancora per i compagni ed è la cosa secondo me più difficile da fargli imparare. Allo stesso tempo Barro, come l'ho detto migliaia di volte, il ragazzo ha degli evidenti limiti su cui deve lavorare, però per esempio oggi il suo inserimento ha complicato non poco la vita i difessori dell'Udinese perché è vero che è un giocatore meno tecnico di Rigoni ma è un giocatore più veloce e che comunque la porta alla punta, quindi un difensore deve comunque andargli dietro e devo dire che secondo me gli ha stancati mica male. Molto bene il centrocampo come al solito, levata di scudi per Atteborough che ha fatto secondo me un'ottima partita. Ripeto, secondo me il discorso su Atteborough è molto simile al discorso sul Papo Gomez, cioè noi abbiamo in mente quelle ali della prima stagione di Gasperini che probabilmente dobbiamo metterci una mano, dobbiamo farcene una ragione, quella tipologia di ali probabilmente non l'avrò mai più. Non l'avremo mai più perché per averli oggi esser sicuro che siano così devi mettere a mano un sacco di soldi e perché probabilmente poi la squadra è evoluta. Allo stesso tempo però non possiamo dire che i nostri esterni oggi abbiano fatto una brutta partita. Gossels ha fatto il suo, ha corso, difeso, ha anche sostenuto, Atteborough ha corso, ha corso, non gli si può dire di no, ha fatto un bellissimo anticipo a centrocampo e quindi ha poi portato al gol di Zapata. Quindi dobbiamo essere soddisfatti anche di loro. Ripeto, non sarà Conti, non sarà Spinazzola, non sarà quel modo di giocare molto più utile al fantacalcio che ha le partite normali, però oggi come oggi devo dire che le prestazioni dei nostri esterni sono assolutamente in crescita e assolutamente soddisfacenti. Resta l'unica pecca di questa Atalanta è la difesa che anche oggi ha preso un gol di imbucata che non è proprio il tipico gol che subisce l'Atalanta. Ripeto, come l'ho detto nel video precedente, sicuramente c'è un problema di forma fisica, c'è un problema di affiattamento, c'è un problema di tranquillità. Io resto dell'idea che se l'Atalanta ha ambizioni, quello lì è il reparto dove devi mettere mano al portafoglio e lo devi fare perché ti rischi troppo. Con Varnier fuori, che intendiamoci con l'infortunio che ha avuto, pensare ad avere un Varnier pronto in campo è quasi impossibile. In una situazione del genere, secondo me, se si vuole mirare qualcosa di più, un difensore pronto da Serie A, di quelli che magari ti fanno due o tre stagioni perché sono già all'apice della carriera, quindi magari ti fanno solo due stagioni o tre stagioni, io ce lo vedrei bene. Probabilmente vuol dire sacrificare qualcuno, però d'altronde bisogna sempre ragionare in termini della squadra e mai innamorarsi solo e esclusivamente dei giocatori. Quindi io nella rotazione ottimi Palomino, Toloi, Masello, bene anche Mancini. Ripeto, non è che gioca male, però se uno si fa male lì ti serve un difensore forte, non puoi rischiarla. Se hai ambizioni, se no va bene comunque perché, ripeto, quello che stiamo facendo per quanto mi riguarda è più che soddisfacente così a Gasperini che vuole arrivare quarto. Io non credo francamente di avere così tanta ambizione. Se poi ci arriviamo, ben venga ovviamente. Come al solito, io vi saluto e vi ringrazio. Se volete seguirmi su YouTube o sui social avete tutti i link, altrimenti ci vediamo su talentino.com dove leggerò più che volentieri i vostri commenti. Ciao!